Inizia oggi la tappa qui allo Stato San Francesco dello stage, è arrivato già la quinta edizione, è promosso dalla Scuola Portieri numeri 1, tanti preparatori, a partire appunto da Paeseo Petrazzuolo, preparatori del città di Nocera, c'è anche Gigi Amabile, portiere del città di Nocera, Gigi Sorrentino, portiere della Sarnese e tanti altri preparatori, preparatori dell'Ercolano, del Pomigliano, questa Scuola Portieri come ci hanno anche detto nell'intervista si propone appunto di migliorare la tecnica dei ragazzi, di farli crescere e sviluppare una cultura del ruolo del portiere. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!